L'hanno trovato privo di sensi, solo in casa, ferito alla testa da un colpo di arma da fuoco, non si sa se è partito accidentalmente o volontariamente. Lo stanno accertando i carabinieri della compagnia di Ariano Irpino, che hanno subito escluso la pista dell'omicidio, non avendo riscontrato alcun elemento che possa far pensare a responsabilità di altre persone. Si è trattato di una tragedia, al momento tutto da chiarire, che ha visto come protagonista un ragazzino di soli 14 anni. E' quanto accaduto ieri sera, ballata nei presi del casello autostradale della zona PIP. La famiglia è molto conosciuta e stimata. Suo padre gestisce una struttura ACI in questa zona del paese. La scoperta è stata fatta proprio al suo rientro a casa, insieme alla moglie. L'allarme immediato, l'arrivo dei sanitari del 118 e la corsa disperata all'ospedale Rummo di Benevento, dove la prognosi al momento resta riservata. Le condizioni del 14enne sono gravissime. Gli inquirenti stanno ascoltando in queste ore i genitori, familiari e amici del ragazzino per fare piena luce sull'accaduto. Ore di apprezzione in località Maggiano e Santa Lucia, in questo fazzoletto di terra che circonda l'abitazione del ragazzino. La gente è preoccupata, ma non si sbilancia. Io non sapevo niente, l'ho sabotato adesso. E' un bambino, peccato. Eh, purtroppo. Ma come è successo? Non si sa. No, non sa niente, non sentite niente. Noi sappiamo che sono buona gente, ma non sappiamo che è successo, ma non lo sappiamo come è successo.